Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Madfather Lo scorso episodio vi è piaciuto davvero tanto e ne sono veramente contento perché non me lo aspettavo sinceramente Ma comunque, torniamo a noi Nello scorso episodio cos'è successo? È successo che abbiamo iniziato a capire come si svolgerà il gioco Abbiamo scoperto che nostro padre è uno scienziato pazzo E che la nostra casa è infestata da dei non morti venuti per prendersi la loro vendetta su nostro padre Detto ciò ragazzi, senza indugi, proseguiamo perché si sta facendo molto interessante la cosa Allora, immagino di dover andare, non credo di dover andare di qua Anche perché... Ok, manca un pezzo di scala Ok, sta cosa che lo schermo lampeggia non mi piace Deduco che bisognerà trovare il pezzo di quella scala E... ok, proviamo a entrare di qua Porca puttana che jumpscare assurdo Perché voi nell'editing lo sentite basso, io l'ho sentito forte Dammi indietro, ridammela indietro Ridammi mia figlia, minchia meno male che non dovevano esserci jumpscare Raghi, io il volume lo sento più alto di voi, eh, sia chiaro Giusto per farvi capire Cos'era sto coso schifoso che ho sentito? Oh, Gesù, cosa sei? Aspettate, esploriamo un attimo Oddio, io ste cose qua non me le ricordo Io ste gioco qua l'ho già visto, ma io queste cose non me le ricordo Oh, figa, si possono aprire anche gli armadi Ma perché sti suoni? Ok, una roba Oh, Gesù Cristo Cos'era quello schifo? Mi sta andando pure a fanculo del tasto Z Aspetta Ma Ma dite che lo devo seguire? Mi sembra come se io lo debba seguire Ok, questa qua è una gemma Ok, sapete che quelle bambole, queste qua, non me la raccontano proprio giusta? Ok Ok, sembra che non si possa interagire con queste bambole Quindi forse avrà un'utilità in futuro Ma Ma quella bambina lì che veniva fuori Boh, vabbè Proviamo a scendere un attimo Oh, Gesù Ah, ma cazzo, ma c'è anche la vita Oddio, io sta cosa non l'avevo vista Eh, proviamo a prendere sta gemma No, figa, anche te no Me l'ha messo allegramente nel culo Oddio Calma Ci sarà pure un modo per curarsi? Oh, devo fiondarmi in sta stanza Ok Ci siamo Quella porta col sangue No, vi prego Allora, cosa c'è qua dentro? Un corvo, sì Salva Salva subito Però c'è un altro coso che Non si sa mai Ok Oh, cos'è sta roba Penso di aver sentito qualcosa E ormai non sarebbe una novità Pensavo di aver sentito qualcosa Forse sono solo io Dubito fortemente Ok, un ritratto Do della cos'è Z, z, push, 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 push Push Ma che cazzo sta succedendo? Oddio, io queste cose qua Cos'è sta interattività di cui non ignoravo l'esistenza? Raga, non mi libera Oh, forse ce l'ho fatta Che cazzo era quella roba? E mo' dovrei entrare qua dentro Eeeh, ciao, figurati Lo sapevo io Mi sa che è morto Oh, cazzo, sì, è morto E raga, era scontato come la merda C'era la vasca piena di sangue Chiave della caffetteria Sarai infame nell'anima Ok, devo uscire No Cos'è sta roba? Ok, sembrava una di quelle bambole che c'erano all'inizio Eeeh Chissà cos'era quella bambola che si muoveva Ma raga, dentro c'era una Toilette Ok, no, usciamo da sta cosa qua che Ho già avuto Mi sono già preso troppi infarti Ok, io sti cosi quali devo evitare assolutamente Però lì c'è un'altra porta Proviamo a vedere se Ok Un altro corvo Perfetto Raga, sti corvi qua sono indispensabili Cosa sei? Cos'è sta roba? Via Ok, penso di non poterci andare Se mi ha mandato indietro E questa porta qua Con i punti di domanda che è chiusa Non mi piace per un cazzo veloce Sali, ok Mi sa che devo andare dove c'erano le bambole No, non ho proprio voglia Ancora tu Vai via Oh Gesù bambino Cosa dovrò fare? Provo a parlare un po' a tutte le bambole a sto punto Magari con qualcuna si potrà interagire Io che ne so Almeno A me mi pare che fosse A me mi pare non si dice Mi sembra che fosse Una bambola rossa Quella che Ha provato Cioè che mi è passata davanti Ok Quindi non so proprio cosa devo fare Ok Aprire qua Non mi porta nulla E chiudere Aspettate io ho trovato Vattene Io ho trovato la chiave della caffetteria L'unico problema è Ok forse Oh perfetto Ce l'ho fatta Entriamo Ok c'è il corvo C'è il corvo Il corvo Vieni qua Si sta facendo inquietantissima la cosa Lo sapevo Non si muove Meglio Vaffanculo Otteniamo una gemma Lo sape Cioè lo sapevo non è vero Io quando dico lo sapevo raga Non è vero Se no non mi spaventerei Ok Non so perché Ma quelle tende Mi dicevano qualcosa Forse perché Se passo Mi rompe il cazzo Non c'è niente da fare qua Si me ne sono accorto Ok devo andarmene Di certo non rimango qua Se E Ho capito Però Cioè Per ora Cioè non ho nulla Che mi possa tornare utile Dove dovrei andare A sto punto Eh Bella domanda Toilette No Move the painting Provaci Provaci Non lo so Ok Perfetto Dovevo tornare qua Ok Questo giardino qua raga Me lo ricordo Guardate Quest'acqua Che è proprio Stile Pokémon Questo giardino Me lo ricordavo Abbastanza bene Cosa c'è qua Un'altra gemma Eh ma L'unico problema È che io non ho bisogno Effettivamente Di gemme Vediamo se Questi cosi qua Hanno un senso Tu C'è un buco nel coso Ok via di qua Il problema raga È che non so proprio Cosa devo fare In questo momento Allora Di qua Ho constatato Che non ci sono zone In cui Entrare Giusto Devo andarmene E va bene Questa zona qua Non serve a nulla L'abbiamo capito Di qua Questa cosa qua È ancora chiusa Di qua C'è quel mostro lì Che non sarà Sbloccabile Sicuramente Provo un attimo A rifiondarmi Di qua Giusto per vedere Se Levati Se hai cambiato Qualcosa Ecco Così dettagliata Sembra Non sembra Una bambola Ma strano Non me lo sarei mai Aspettato Allora Qua abbiamo detto Che non c'è nulla Vedo solo Vestiti Disastrati Questa cosa qua È chiusa Gli archivi Proviamo a tornare Un attimo Indietro Raga Andiamo Ah la tipa Se n'è andata Ecco Perfetto Ottimo Trovata Quello strano ragazzo Se n'è andato Ok Perfetto Non ci tengo A rimanere qua dentro Ok Andiamo agli archivi A sto punto Raga Se mi ricordo Dovrebbero essere questi Esatto Ok C'è C'è un corvo Perfetto Salviamo Allora Libri Libri Sparpagliati Libri Sparpagliati Le librerie Possono tornare utili Fanculo Cos'hai trovato Gli umani sono bellissimi Ma quella bellezza Spesso Presto Scomparirà Questa è la legge del mondo Ma io l'ho cambiata Dopo anni di ricerche Ho scoperto Ho trovato L'eterna bellezza Un corpo Che non Si dissolverà mai Nella morte Un corpo Un corpo Fresco Come Quando era Ancora vivo Avranno Questi avranno L'eterna bellezza Ok Queste cose qua Credo le abbia scritte Il mio The flame egg Quelle cose lì Penso che le abbia scritte Il mio padre Ricordo questo libro C'è una ragazzina Che ha il misterioso potere Di controllare Il fuoco Ed è partita Per un viaggio Per scoprire Per ritrovare La famiglia Dalla quale È stata separata Proclamando Bruciare Tutto Quello Che si trova Sulla mia strada Ha fatto Esattamente Questo A tutti i suoi nemici Ma penso Che Verso la fine Il suo potere Andrà fuori controllo E distruggerà il mondo Ok Penso che abbia Un senso Questa cosa Ok Sta parlando Devo salvare mio padre Ma io sinceramente Se posso dare È chiusa Data on live Experimentation Ok Eeeh Che cosa bella C'è qualcosa Qua dentro Ah c'è un bigliettino Code memo Cosa Mamma Fa male Aiuto Ma che cazzo Papà Oddio no Non lo sta facendo Veramente Voglio andare a casa Voglio andare Dalla mamma Non ti preoccupare Ti porteremo Presto da lei Quando tutto Questo sarà finito No Voglio andare Adesso Mamma Oh Gesù Potrà fare un po' male Ma non troppo Ehm Ti sentirai Rinvigorita Molto presto Fermati Smettila Smettila Windows Smettila Anche tu Mannaggia te Oddio Oddio Vandala via Oh perfetto Ok Ok raga Credo di aver capito Questa bambina qua È quella Della mamma Che abbiamo Che ci ha fatto saltare in aria All'inizio dell'episodio E praticamente Praticamente L'è stata testata Sopra una medicina Uno di quegli esperimenti Di nostro padre Ok Se non altro Ho capito che In teoria Le librerie Di interesse Sono quelle Esatto Sono quelle In cui ci sono Tipo i libri spostati Ho trovato Un code memo Questo potrebbe Sbloccarmi Qualche stanza In particolare No allora Di qua Dubito Qua cosa c'era Non mi ricordo più Ok Sto facendo un casino Assurdo con tutte le stanze Ora Dove non sono ancora andato Oddio Sei ancora qua Te vai via Oh no Bathroom Dubito che serva Un code memo Per il bagno Eh infatti Reception Ok Questo qua È il giardino Con questi rumori Inquietantissimi Quindi via 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 Oh Gesù Ma perché siete sempre In mezzo Alle balle Fermo Entra qua dentro Un attimo Forse qua No E allora No ok Qua c'è ancora Quel cosa Di dubito Che il codice Serva per lui Posso bruciarlo Ma come Ok Aspettate Tutte Tutte Ste candele Qua Avranno Utilità Devo Bruciare Quel Mostro Ok È già Un indizio Un barile Un barile Un barile Ah con quello Lì non posso Interagire Perfetto Forse qua Dentro C'è qualcosa No Questo cane Può avere Una sua utilità Per bruciare Qualcosa Questo Cos'è Un microonde In cucina Penso Sii Genio Ho trovato Dell'olio Ed è caduto Pure qualcosa Ah ok Una gemma Ho trovato Dell'olio Olio Quindi dovrò Trovare una lanterna A sto punto Ho visto Una lanterna Ad olio Di solito Funziona così Negli horror Proviamo a premere Un po' Ovunque Raga Una lanterna Dove posso Trovare una lanterna Raga Difficilmente La troverò qua Però Eh questa stanza qua È l'unica Che Alla quale Non ho ancora Trovato Un'utilità Se non Quella Di farmi Saltare In aria Quindi potrebbe Anche Negli archivi Forse C'è per terra Qualcosa Qua Vediamo Se C'è qualcosa Qui Pendant Questa È chiusa Ok Dubito Che Come si apriva il menu Non mi ricordo Oddio Apri Apri il menu Apri il cazzo di Ok Non so come si apriva il menu Non è che È tipo Tornata la tipa Che cercava la Aspettate Code memo È per forza questo Eh ma Ok Non c'era bisogno Di fare Eh raga Il problema è che Non ho il Una medicina Che utilizza papà Non so come aprire Il menu Raga Non ci riesco Ce l'ho riuscito Però prima Ok ce l'ho fatta Code memo Barrels Ah ok Sì Questa parte Me la ricordo Per sbloccare Per scoprire Il codice Devo trovare Allora Barili Al primo piano Nella Ala est L'ala est È questa Giusto Mi pare Proprio Di sì Ah ok No Questa qua È sempre La zona Della Della scala Mancante Che tra l'altro Rimane ancora Quel pezzo lì Aspettate Però qua Siamo ancora Al primo piano Questo forse L'ha visto Esatto Uno Due Tre Questi qua Sono considerabili Barrels Penso di sì Quindi sono Sette Ok Vorrei aprire Il menu Però Come ho fatto Prima Mannaggia Lui Ah ok Posso solo In alcuni luoghi A quanto pare Candelabri All'entrata Quattro Perfetto Perfetto Ok Tra l'altro Tra un attimo Dovrei pure Stoppare Sette Quattro Bambole rosse Nella Stanza Delle bambole Tu sempre lì Sei Non te ne vai mai No ripeto Devo stoppare L'episodio Perché Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Quindi Sette Quattro Sei Paintings In reception Room Ok Devo andare Dall'altra parte Della vita Sette Quattro Sei Sette Quattro Sei Sette Quattro Sei Levati Infame Sette Quattro Sei No Non è Il bathroom Reception Room Ok Quadri Uno Due Sette Quattro Sei Due Sette Quattro Sei Due E nella roba Secondo me ci sarà la lanterna Cioè non so cosa ci possa fare una lanterna in una casaforte Però Sette Quattro Sei Due Sette Quattro Sei Due Vediamo se funziona Sette Quattro Sei Due Ma vaffanculo Sette Quattro Sei Uno Non lo so Ma come Ok ragazzi Ho risolto il mistero Ed è una cosa Abbastanza infame Adesso vedrete Il problema era Come avevo sospettato Quello delle bambole Infatti Facendo così Ne troveremo altre due In questo modo il codice sarà Sette Quattro Otto Due Quindi adesso avviamoci verso la cassaforte Evitando possibilmente Gli tizi che stanno lì sotto Eccoci qua Il codice sarà Sette Quattro Otto Due Ma signori miei E qui mi odierete Lo inseriremo nel prossimo episodio Per scoprire che cosa ci sarà Io vi saluto qui Spero che questo video vi sia piaciuto Se così vi invito come al solito A lasciare un bel mi piace A commentare E a iscrivervi al canale Mi raccomando Passate anche dei social Che troverete in descrizione E detto ciò Noi ci becchiamo In un prossimo video Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo